Si sale sfruttando il borto verticale di una placca, non vuol dire che è presente una vecchia sosta sui chiodi. Bene, ci sono 50 di euro, se no dopo non ci riesce mica più... ... Ed eccoci in vetta... Ed eccoci in vetta... ... 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